Praticare diversi spolto al coperto, tra i quali calcetto, basket e pallavolo. A partire dal prossimo autunno a Sala Consilina sarà possibile anche in località Cappuccini, nell'area del teatro comunale. Sono infatti iniziati i lavori di adeguamento e copertura dell'impianto sportivo polivalente, realizzati grazie a un finanziamento di 370.000 euro, ottenuto dall'amministrazione comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, con un mutuo agevolato. Il Comune Salese ha infatti partecipato con successo all'iniziativa 500 impianti sportivi di base, nata dalla collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto per il Credito Sportivo ed inserita nell'ambito del progetto Mille Cantieri per lo Sport. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata l'atticostruzione Nigro SRL, che completerà l'opera in sette mesi. La consegna è prevista per fine settembre. Hanno preso il via i lavori di adeguamento di questo spazio, che vedranno la realizzazione e la consegna già dal prossimo autunno di un nuovo impianto sportivo. Si tratta di una struttura sportiva al coperto, all'interno della quale diversi sono gli sport che potranno essere praticati, dal basket alla pallavolo al calcio. Riteniamo di aver interpretato al meglio la volontà della comunità, perché riteniamo che aver investito importanti risorse, parliamo di circa 400.000 euro per lo sport, rappresenti di certo la gioia e la soddisfazione di tutti i cittadini. I lavori hanno interessato anche gli spogliatoi, perché sono stati fatti degli adeguamenti per consentire anche ai diversamenti abili di utilizzare questa struttura a 360 gradi. I soldi sono soldi di un mutuo a tasso agevolato, ottenuti grazie alla partecipazione al progetto 500 cantieri per lo sport. Lo sport a Sala Consilina è assolutamente vivo, il fervore è tanto e come istituzione non possiamo esimerci dal concentrare tutti gli sforzi per garantire sempre più spazi affinché soprattutto i giovani, ma in generale le associazioni e gli sportivi abbiano le proprie strutture per poter praticare, divertirsi e inseguire i propri sogni.